Grazie a tutti. Quello non lo so che sarà, però quello di Pozzettino ha fatto una scultura con una scultura grande, ma lui è dedicato un po'. No, non lo conosce mai anch'io, lo conoscevo qui, se ti vuoi dominare, però non lo conoscevo. Lei la conosce, no? Benardi. Ilario. Facciamo? Sì, mi mando. Non è niente male quanto lui. Non è niente male. Questa invece è un'ostriaca. Gutrum, Volkestalle. No, è moro. No, hanno i capelli corti, 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 corti. C'è i capelli bianchi, però alta, magra. È una figura che si vede spesso. Si, 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 si. Si, si, si. Si, si, si. Eh, si vede un po'. E anche questo qui è suo. Non sembra di vero? No, meglio. C'è un po'. Un po' più entusiasmante. Sì, però... Questo qui è perfettivo. Non lo so, c'è una pochina più di ricerca. C'è un po' più attenzione. Questi sono più attenzioni. Sì, sono più attenzioni. Non so, non c'è un particolare. Lui è l'ordinario di Fornaci Barra. Lui lavora con questi materiali. Lui scrive molto anche un poeta. Un po' più attenzione. Tutte le scuole che dovrebbero vedere in questo momento. Sì, sì. Questo è un miniaturio. Questo da lì. Mi viene a raccontare che mi sto volando su, eh. Ma sai che sono la cerchia? Ma sai che hanno fatto io? Mi vede il forzo? Mi sono dato anche nell'ordere sul sul salto finale. Ma non mi ha visto. No, non mi ha visto. Non mi ha visto le sbagli. Eh. Non mi ha visto le sbagli. Sì, sì. O un tre in l'anno. Ma tu lo vuoi incontrare? Ma io ho fatto chiaro. Non c'è quella bravo e altro. Perché io ho fatto la bravo e altro. Sono stato un finale. Una ventina di giorni. E non riesci a vedere niente. Per via del tempo che mi ricavano sempre. Eh. 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 È un montaggio. Sarà un nesimo. Eh. Sì, sì. C'è un petto. Ma te, però sono piccolissimo. Eh. Sono un po'... Eh. Eh. Ma mica, però va sopra. Allora, eh. Secondo me... Il padre non è contento. Secondo me è cinese. Sì. Sì. Perché sono superfici, capito? Sì. Sì. Quando uno va più grande. C'è un po' di là. Da una posizione. E poi il quadro domini. Capito? Esatto. È il quadro che ti prende e ti trascina. e invece il quadro è pagato, sennò viene trascinato dal quadro e vai in direzioni che magari non puoi. Cioè io dico, non so se l'occhio mio, ma questi qui, capito, sono compiuti. Quindi se questa immagine fosse stata così, sarebbe stata più dispersiva, meno controllata.